Dal 1 luglio tutti i parchimetri devono essere dotati del dispositivo per poter effettuare i pagamenti anche con banco, matte e carte di credito. Se alcuni comuni non si sono ancora attrezzati, a Venezia tutto sembra essere stato fatto a regola d'arte. Tutto il cuore di Mestre, sono circa 7000 stalli che vanno dal centro di Mestre alle zone di Viale San Marco, tutta via Corsol, tutta la parte afferente alle strisce blu, quindi 7600 posti a strisce blu a pagamento, sono stati normati sostituendo le colonnine vecchie con colonnine nuove che prevedono il posto. Laddove i comuni non provvedano, i cittadini che non siano in grado di pagare il discorario in contanti potrebbero sentirsi legittimati a sostare gratis. La sanzione in tali casi non può essere combinata proprio perché il comune di fatto si è reso inadempiente all'obbligo di adeguamento previsto dalla finanziaria 2016. Ma a Venezia questo pericolo non si corre. Siamo all'avanguardia ed è anche comunque un investimento perché questo ci consentirà la nuova tipologia di colonnina di inserire appena abbiamo il progetto pronto la digitazione non tanto del mero pagamento ma anche la digitazione della targa.